Grazie a tutti Ecco, c'è l'entrata in campo per la gara di campionato categoria Juniores, campionato regionale categoria Juniores, girone unico Chieti tra Ortona Calcio Virtus Castelfrendano con calcettoni bianchi, celesti, adesso c'è la scelta, ecco i nostri ragazzi, vice capitano Carnier, Lucas e capitano Antonino Ci troviamo qua al comunale di Ortona, una panchina corta, ci abbiamo oggi ma per... A posto, in bocca al lupo, in bocca al lupo Adesso il direttore si accinge a dare il fisco d'inizio, due tempi da 45 minuti, giusto? Sì Ah, il guardalini, già ti ha inquadrato Sì, sì, stai l'arce Ecco fischio d'inizio, alle prossime riprese Qua dal comunale di Ortona Grazie Grazie Grazie